Amici sportivi, appassionati di calcio, appassionati nel vero senso della parola, perché vi ridò il benvenuto in questo che diventerà uno spazio, un appuntamento che ci accompagnerà tutto l'anno, il calcio tascabile con Andrea Tasca ospite, andremo come promesso a spulciare, trovare curiosità, anedoti, presentare giocatori, insomma faremo di tutto e di più, oggi Andrea dici di chi ci parli. Oggi vi parlo di Gianluca, Gianluca è Gianluca Cacciotti che nasce nell'anno 1989 e comincia a giocare al calcio nei piccolini del Romano, ma è troppo forte e passa subito al Bassano. A 16 anni Gianluca fa sfracelli nei tornei estivi, i tornei estivi quelli veri con i trentenni che giocano in eccellenza in serie D e al Bassano gioca altrettanto bene e lo nota inevitabilmente l'Inter. Con l'Inter è quasi fatta, ma alla fine Gianluca proda il Vicenza per fare la primavera guidata da Mr. Gabrielli e la fa sotto età. Non vanno molto bene le cose, ci si mette qualche infortuna di troppo e Cacciotti torna al Bassano dove trova Glerian che se lo porta in prima squadra in serie C. Quel Bassano è un Bassano fenomenale con pirri e berrettoni e Cacciotti trova spazio soprattutto in Coppa Italia, si ritaglia dello spazio e trova anche un bellissimo gol, il primo gol nei professionisti in un pirotecnico 4-3 contro la spalla. Alla fine dell'anno quella Coppa la vince proprio il Bassano Virtus. A 22 anni però purtroppo c'è una svolta negativa nella carriera di Cacciotti e dopo un'esperienza appunto un po' negativa alla Sacilese a 22 anni decide di smettere. Gli fanno tornare la voglia gli amici e allora fa la differenza in prima categoria, poi in promozione e poi in eccellenza. Oggi Alex è il 3 dicembre e sono contento di comunicarti che da ieri Gianluca Cacciotti è tornato quantomeno dove gli spetta di stare perché da ieri è un nuovo giocatore del cartegliano in serie D, dieci anni dopo ancora in serie D. E allora quali sono però le caratteristiche? Cioè hai parlato delle sue qualità, delle sue potenzialità, le caratteristiche di Gianluca? Gianluca mi dà l'impressione di essere uno di quei giocatori che più si alza il livello e più lui rende. È un calciatore molto intelligente ed è pazzesco quanto sia duttile in tutti i ruoli dal centrocampo in avanti. Il giocatore è veramente di questa categoria di serie D. E allora come sempre chiudiamo con un paragone, l'altra volta hai citato Kakà, questa volta a chi paragoniamo Cacciotti? Lui a me piace molto in un 4-2-3-1 dietro alla prima punta e oggi facciamo contenti gli appassionati di Premier League perché te lo paragono al danese del Tottenham, Christian Eriksen. E allora buon per il cartegliano che ha acquisito le prestazioni sportive di Cacciotti, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del calcio attascabile. Grazie Andrea. Buonasera. Buonasera.